Gli azzurri della nazionale militare sono venuti a Izmir per il primo incontro del campionato internazionale che li oppone ai rappresentanti delle forze armate turche. La vigilia dell'incontro è serena per i nostri ragazzi, ben preparati nel morale e nel fisico. Doveroso è l'omaggio al monumento dell'eroe nazionale Kemal Ataturk. È giunta l'ora dell'incontro, H.O., Accademia Aeronautica, scrivono i soldati turchi sul verde del prato, ad apertura dei convenevoli diritto ormai tradizionalmente uguali in ogni manifestazione del genere. Sono rapidi i preliminari, mentre la tifosissima folla di Izmir grida già tutta la sua passione. Nel primo tempo la squadra italiana controlla bene l'avversaria e manovra all'attacco con buone azioni in profondità, a stento contenute dall'irruente e decisa difesa dei calciatori soldati della mezzaluna. Non molto tecnici, ma assai tenaci i contrattacchi turchi controllati dalla nostra difesa. Fa via Ronzon, scarta il portiere, tocca esatto a rete, gol! È la vittoria italiana! Nella ripresa, favoriti da un arbitraggio un po' casalingo, i turchi assaltano con irruenza e buone trame la porta italiana. Ma i difensori, e specialmente il portiere Bavassori, resistono brillantemente. Il portierino azzurro sul finire conti il suo capolavoro. Tiro di Catrini, traccia di Mialic. Giocatori e folla gridano al rigore, la polizia prudenzialmente entra in campo. Fatte Mustafa, scatta Bavassori, para! La vittoria è salva, e i ragazzi azzurri esultanti abbracciano il loro prodigioso portiere. È finita. I militari turchi hanno dovuto cedere in un serrato incontro ai nostri atleti, forse meglio preparati. Ci sarà la rilincita a Bari, e non sarà una partita facile per gli italiani. La Turchia è un osso duro.